Un'altra sorpresa viene dall'Austria. Le squadre danesi in questo primo turno sono state guastafeste in parecchie circostanze. L'Austria di Vienna è una di quelle che ne ha fatte le spese. Dopo essere state battute per 3-2 sul campo dei danesi, gli austriaci non sono riusciti ad andare oltre il risultato di parità, malgrado abbiano tenuto costantemente sotto controllo la partita. Un 1-1 che ha finito per qualificare il Veil. Il gol è venuto al 35esimo del primo tempo, ad opera di Brille, come vediamo adesso nelle immagini. Il lungo lancio in profondità, la classica azione in contropiede, i danesi sono riusciti a passare. Poi si è scatenato l'attacco dell'Austria di Vienna, che è la squadra prima in classifica nel campionato austriaco tuttora, ma non sono riusciti a passare o quantomeno sono riusciti a pareggiare con un gol all'inizio della ripresa ad opera di Gaselic, ma non è stato sufficiente ovviamente a mettere al sicuro la qualificazione. Il gol di Gaselic, l'abbiamo appena visto, è veramente molto bello, con una gran fiondata da lontano, che rendevano il tuffo di Larsen, il portiere del Veil, che è stato uno dei migliori in campo, molto efficace in diverse circostanze e situazioni, l'abbiamo già visto e ne potremo vedere qualche altro. Poi proseguono gli attacchi, ecco Proasca, il regista dell'Austria e della nazionale austriaca, che questa volta tenta di far tutto da solo, Larsen gli chiude lo spazio. Grazie.